Cosa stai facendo di bello? Tra un po' torna a Parla con lei, mi dicevi? Sono aperti i casting di Parla con lei, anzi se cercate l'amore, insomma mandateci il vostro curriculum, che in realtà il curriculum è se siete fidanzati, se siete sposati o siete stati sposati e se volete trovare l'amore come. Quello per noi di Parla con lei è il curriculum e proponetevi, perché insomma stiamo cercando. E poi tanta radio. E poi radio con i sociopatici di Radio 2, con quei due matti del Monti e del De Tommasi, quindi sì, e un trasloco che è molto importante, questo trasloco da casa a casa. Lontane le due case? No, sono vicino a un chilometro, il problema è che sono da sola, perché mio marito sta lavorando a Palermo, quindi sono da solissima, devo dire che... Quel gran maritozzo di Francesco Montanari. Sì, appunto, lui è lasciato da sua nel momento del trasloco e non è facile, no per niente. Adesso gli twitteremo questa video intervista. Sappi che sto buttando via tutto quello che voglio senza chiedere possiamo tenerlo o no. È l'unica cosa positiva di fare il trasloco da sola. Vai Francesco, grazie. Grazie a te.